Aria aperto al pubblico dopo anni di chiusura, la zona della Villa Floridiana compresa tra via Cimarosa e la terrazza panoramica, un'aria di circa 21.000 metri quadri che da sabato è stata riconsegnata alla città, ripristinati sistemi di irrigazione e illuminazione, sistemate panchine e cestini lungo il percorso, recuperato il teatrino di Verzura, effettuati interventi su prati, aiuole, viali, staccionate e all'area giochi dei bambini. Parco pubblico e giardino storico monumentale, l'articolato complesso della Villa Floridiana al Vomero si presenta ai cittadini più accogliente e sicuro. Oltre agli interventi sul verde è stata allestita anche una nuova segnaletica che offre ai visitatori informazioni storiche e indicazioni per favorire una fruizione consapevole del sito, progettato nella prima metà dell'Ottocento. A questa prima fase di interventi segue la progettazione, già in corso, di un piano di recupero complessivo che riguarderà l'intero parco.